Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci svingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, nion di noi vuole. Lui, Metello, forte padrone di sé quando si trovava tra i suoi compagni in piazza Santa Croce o alla camera del lavoro, incapace di porsi fin anche come l'ipotesi, l'idea di capitolare, non appena rientrava imboccava via dell'ulivo e piuttosto che alla finestra di casa volgeva lo sguardo a quella soprastante. Era un moto istintivo, la volontà ci aveva poco a che fare e magari Ida non c'era, stava aiutando Ersilia a confezionare i fiori o giocava da bambina a bambino con Libero. Metello se ne invaghiva ogni giorno di più, tanto da darla a vedere, pensava, e riflettendoci gli sembrava impossibile che Ersilia non se ne fosse accorta, si augurava che fosse lei la prima a parlarne, quasi lo irritava questa sordità sentimentale da parte della moglie. Ma Ersilia, egli si diceva, non poteva sospettare i suoi pensieri, certa com'era del suo affetto, della sua lealtà e soprattutto persuasa, a ragione, a ragione, di non aver nulla da temere, in quanto beltà e intelligenza nei confronti dell'Idina. Inconsciamente egli cercava di dimostrarsi che Ida non valesse Ersilia, ma ormai egli si limitava ad una comparazione fisica, e siccome era soltanto fisica la trazione che provava per Ida, uomo dopo tutto semplice e lineare, anche nelle sue contraddizioni, Metello era già pronto, su questo campo almeno, alla capitolazione. Gli era mancata finora e unicamente l'occasione, che infine si presentò ed ebbe il suo antefatto la sera avanti l'offerta dell'aranciata e del vino. Egli discuteva sulle panchine di Piazza Santa Croce, coi suoi compagni, allorché vide Ida, che teneva per mano libero. Salutò i compagni e li andò incontro. Il bambino staccò la corsa e lui lo prese in braccio. Camminando, dopo un silenzio, lei disse Sembra non le abbia fatto piacere questa sorpresa, o almeno che le abbia fatto piacere soltanto per il bambino. Del resto, si commentò, è naturale. Mi sono dimenticato di ringraziarla, sono un maleducato. Lei rise ed egli aggiunse Ma certe volte, come quei padroni, bisogna sapersi difendere per non lasciarsi tentare. Io non mi intendo di padroni. Non ne ho mai avuto, non ne ho mai avuti. Le tentazioni, poi, sono del diavolo. Eh no, egli disse, ce l'hanno anche i santi, le tentazioni. Ma sono opera del diavolo, e la ripeté. Erano neri quegli occhi e tuttavia brillavano come ci fossero dentro una o cento pagliuzze d'oro. Il seno sotto la fascetta era premuto, e come ansioso sembrava di venire liberato. E se uno ci resta preso, dove va a finire? Ah, non lo so davvero. All'inferno, ma anche in paradiso, chi lo sa. Ma non mi faccia bestemmiare. Egli la guardò negli occhi e gli sembrò di trovarsi in ginocchio. Da quel momento ne andava di mezzo la sua responsabilità di essere un uomo e di portare i pantaloni. Entrarono in via dell'ulivo e Idina non gli dette tempo di aggiungere una parola. Lo precedè di qualche passo e aggittò la mano verso la finestra, dove stava affacciata Ersilia. Era proprio in piazza Santa Croce, come ci ha detto lei. E ora, l'indomani, uscita Ersilia col bambino per andare dalla madre in San Frediano, Mettello si era messo camicia e calzoni. In fretta si era passato la spazzola sui cappelli e guardato allo specchio. Se gli fosse stato fino in fondo sincero con se stesso, bel muratore, si sarebbe potuto dire. Intanto saliva la breve rampa di scale. Ella era dietro la porta e gliela schiudeva. La stanza, dalle persiane abbassate, era in penombra. Sul tavolo c'era il fiasco di vino e la caraffa dell'aranciata. Come con Viola dieci anni prima, egli chiuse l'uscio alle spalle e subito la strinse tra le braccia, finché ella non staccò le labbra dalle sue e, al contrario di Viola, non disse. Ce n'è voluto, ma sussurrò. Non è una pazzia? No, no, egli disse, mentre la prendeva in braccio e, conoscendo la casa, la portava nella sua camera, immersa nella stessa penombra, e la adagiava sul letto e le scioglieva amorosamente la vestaglia. Ella gli apparve nuda sotto la vestaglia, con le calze nere e le giarettiere sostenute dal cinto, anche nere, che sottilmente le fiasciava ai fianchi. La sua mano larga, quadrata di muratore, si posò su di un seno e lo racchiuse, e quando la prese, con frenesia ora, con ferocia, ella gli tene testa brevemente, mordendosi le labbra. Poi, dinanzi alla sua vehemenza, una gagliardia che le era ignota, fu come se crollasse di schianto. Sollevò le braccia e stretto il volto di Mettello tra le mani. «Amore!» gli sussurrava, ebbra, arresa, offrendosi ormai inerte, tutta sussulti al suo ardore. Quindi, egli la teneva ancora tra le braccia, beveva con lei, non il vino, ma l'aranciata, fresca, saporosa, centelinandola insieme dalla caraffa a cui avevano dato fondo. Ella sussurrò. «E ora?» Aveva uno sguardo sperso di bambina, e insieme una luce, in quell'oro delle pupille, come di durezza di cattiveria. Restava nuda, dimentica del proprio stato, e leggiadre in questa sua impudicizia, con le calze arrottolate sotto il ginocchio, e senza più le giarretiere. Così, poco prima era andata a prendere la carafe, e adesso, bevendo un sorso, lei, un sorso, Metello, lo guardava. «E ora?» ripetè. Egli era nuovamente citate, nello stesso tempo, la sua nudità, il suo sguardo, lo imbarazzavano. Prese un lembo di lenzuolo e la ricoperse fin sotto la gola. Si alzò, e mentre lui le voltava le spalle, e la aggiunse, «Io ti voglio sempre». Egli tornò a girarsi, appoggiò le mani alla spalliera del letto. «Ci si dovrà pensare», disse. «Non complichiamo le cose prima di incominciare». Lei era supina, lo fissava con quello sguardo ingenuo e stregato. D'un tratto, con un gesto inatteso, allontanò da sé il lenzuolo, e fu ancora tutta nuda, immobile, corrucciata. Egli si aggiustava alle bretelle e sorrise. Bisogna stare molto attenti. Ma non lo turbava nessun senso della colpa, così dicendo. Uomo, comunque soddisfatto, faticosamente chiedeva a se stesso l'atteggiamento da tenere. «Non ho paura di nulla», ella disse, e detto un calcio al lenzuolo, che ancora le ricopriva i piedi. «Nemmeno io ho paura di nulla, ma ho anche altre cose a cui pensare. È subito serio, tanto che essa poteva immediatamente rendersi conto della persuasione che lo animava. Se vuoi che questa sia stata la prima e l'ultima volta, dipende da te. Mi spiego?» Ella venne in ginocchio, a piede del letto, nuda com'era, e gettò le braccia al collo di Metello. Lo baciò sull'orecchio. Egli la staccò da sé, tenera mente, ma con fermezza, e le disse, «Non la prendere troppo sul serio, Idina. Per ora ci siamo levati una soddisfazione. Dormiamoci sopra, e domani se ne riparla. Nel frattempo sappiti controllare». Ella è rimasta in ginocchio, le mani incrociate sul grembo, gli occhi più già pieni di lacrime, allorché si sentì la voce di Ersiglia dalla finestra sottostante. «Ida! Idina!» Ella balzò dal letto, infilò la vestaglia, si ravviò i capelli e raggiunse la finestra, rispondendo a Ersiglia e con la mano dietro la schiena faceva cenno a Metello di andarsene. Egli discese le scale in punta di piedi, si fermò sulla porta di strada, poi risalì, e solo allora provò vergogna di sé, ma non ancora rimorso, piuttosto del fastidio per i sotterfugi a cui si vedeva costretto, e la commedia che, entrando in casa, avrebbe dovuto recitare con Ersiglia. Invece di spingere l'uscio, discese nuovamente in strada, rasente il muro e andò alla camera del lavoro. «Arrivi in ritardo!» gli disse Delbuono, «ma del resto, per quel che c'è di nuovo, dove sei stato? Hai trovato qualcosa da fare?» «Ma che?» egli rispose, «Vengo dal pallone!» «Se non ti ho visto!» esclamò Giannotto. «Da che parte eri?» «Tu da che parte eri, se c'eri?» e si sentì in colpa. Ma un attimo, che si fa presto, una volta acquisita la capacità di dissimulare i propri sentimenti, a sentirsi lieti e sicuri di sé, specie se si ha ancora addosso il profumo di un'avventura, a lungo inseguita, è rivelatasi anche superiore all'attesa. Erano usciti dalla camera del lavoro e avevano fatto sosta alla mescita Kitty. Giannotto, a cui rimanevano giusto quei tre soldi delle dieci lire che aveva preso impegnando l'orologio, volle essere lui a offrire. Così resto pulito e non se ne parla più. Fortuna che ho una moglie che fa la sigaraia. Basta saper resistere, c'è sempre un santo che ci aiuta. «Sono le vostre donne che vi aiutano», disse Delbuono, «e perché avete delle famiglie leggere, ma per la grande maggioranza non è così. Voi altri, in un certo senso, siete dei privilegiati». Non erano argomenti che gli risuonassero nuovi dopo tutto, ma Delbuono, col suo fare cociuto che è proprio delle persone serie quando danno a vedere di esserlo, continuò. «Questa gente sta facendo degli eroismi. Noi badiamo a dire che resistere è nell'interesse di tutti, che la classe operaia dovrà portare, ad esempio, questo sciopero dei muratori di Firenze qualsiasi sia il modo in cui andrà a finire. Ma fino a che punto, ecco, uno zoppo può continuare a camminare? La responsabilità è sì dei padroni, ma anche nostra in modo particolare, mia, tua, sua, di Geminiani. Siamo noi che teniamo su gli animi, ma non ci dobbiamo dimenticare che anche se gli animi ci stanno, gli stomachi sono digiuni e ci sono tante bocche di ragazzi lì aperta, pigolare. È vero o no? La forza di una persona seria consiste nella sua capacità di scoprire l'America come se fino allora nessuno ci avesse mai messo piede e nel caso particolare nel poter dire ciò che Bastiano diceva a freddo e in piena convinzione. Perciò più ci è cara taccotesta persona più ci appare buffa e ci lascia inteneriti. Questo a suo modo pensò Metello e ancora tra il serio e il facetto gli rispose e dovrei fare qualcosa io? Dico io? Io? Salani? Del buono si confuse, si lisciò la barba. No, no, ma siccome da un po' di tempo ti vedo frastornato, lo capirei se tu avessi trovato ad arrangiarti con un altro lavoro. e Giannotto così per dire disse significa che non avendo come occupare la giornata si sarà fatto la ganza eh Metello? Questo potrebbe essere anche vero. Risero e a del buono medesimo luccicò lo sguardo dietro le lenti. Giannotto disse Don Giovanni lo sai Bastiano? È sempre stato una volta o non dette noi anche a mia moglie quando non conoscevo né te né lei. Del buono li salutò. Ci aveva una riunione di stipettaieri o di parrucchieri al solito. Rimasto solo con Giannotto Metello gli disse ora tu non lo raccontare ad annita altrimenti domani Arsilia riceve una raccomandata. Allora ci ha azzeccato. Ho detto potrebbe non ho detto è vero. Ma poiché per quanto un uomo sia a sua volta attento e serio un'avventura non è mai compiutamente tale goduta se non la si confida ad un amico. Metello trovò nelle tasche due soldi di cui si era dimenticato e davanti al banco non più del Chiti ma di Nocellino rivelò a Giannotto il suo recente segreto promettendogli di seppellirlo in sé l'amico convenne che una relazione con una donna come Ida la si può sempre troncare al momento opportuno non è cosa che impegna al cuore d'altra parte è come una mescita che ti sta davanti agli occhi tu che fai la lasci nel bicchiere fin domani era mercoledì e cadeva la festa di San Giovanni dal quale i muratori non si aspettavano un miracolo e poi il giovedì della sesta settimana che essi si erano dati come termine dopodiché in un modo o nell'altro avrebbero agito c'erano sempre le sentinelle sui cantieri e il picchetto dentro il portone dove aveva sede l'associazione dei costruttori nessuno dei quali si era fatto vivo né in sede né sui cantieri si diceva che Madì e Taiuti fossero a Roma a muovere chissà che e Badolati fosse riapparso tra le impalcate di via 20 Settembre ma nessuno l'aveva incontrato né ci aveva potuto parlare gli scioperanti quelli che venivano dalla campagna e quelli di città sostavano dall'alba a Capannelli nei paraggi della Camera del Lavoro via via che le ore passavano diventava sempre più improbabile che i denari della sottoscrizione giungessero in tempo per essere distribuiti ma siccome la speranza è sempre l'ultima a morire si era fissato l'adunanza per le sette di sera nell'attesa nessuno si sarebbe mosso d'attorno corso dei tintori Mattel lui aveva un altro modo di impiegare la giornata gli piacesse o ne fosse già pentito lo aspettava Lidina non azzardandosi una seconda volta nelle sue stanze si erano dati appuntamento fuori rifreddi ma coi quattro soldi in tasca che gli aveva si potevano guardare negli occhi e bere una gazzosa il calore non le risparmiava egli la condusse a Monte Rivecchi era una strada che conosceva ormai a memoria del resto ci fu sempre un fiume o un torrente a delimitare l'orizzonte delle sue avventure come da ragazzino il greto della sieve su cui aveva lottato con la piccola cosetta e poi la riva d'Arno di rimpetto alla casa di Viola e gli argini e i canneti del mulio Bugnone che l'avevano vista in compagnia d'Ilse la prussiana adesso il suo adulterio si consumava tra le rupi i faggi e gli ulivi degradanti sul terzolle una sporgenza del terreno gli permetteva di dominare il paesaggio e di non essere venuti passarono le ore senza che lui se ne accorgesse calava la sera un pastore radunava suo greggio sotto il poligono e lui stradava sul sentiero che porta a Careggi poco più in là c'era un appuntato dei carabinieri con una ragazza lui si era tolto la lucerna e sbottonato la giacca un mettello disse dove lo volevi trovare un posto più sicuro Ida sembrava una giovinetta alla sua prima uscita e una donna che pur nell'impaccio delle vesti aveva saputo essere brava e abile e generosa mentre Mettello si chinava su di lei e gradatamente il cielo imbruniva si svegliavano le rane e si chietavano le cicale egli aveva messo la propria giacca sotto la sua testa ora tu vai al mare come avevi in programma e tra un mese quando torni si decide come ci si deve comportare no 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 e la disse ma dolcemente non piccata tornerei indietro col primo treno sono sicura Mettello prese con due dita una formicola che gli camminava sul braccio e continuò invece di risponderle può darsi che tra un mese questa infatuazione sia passata tanto a me che a te a meno di certo e la sospirò mi sembra di essere al mondo da tre giorni appena io invece gli disse e gettò dei fuscelli attaccatisi alla gonna dell'amante o meno anni di Cristo e comincio di già a sentirmi come un ladrone si alzò in piedi andiamo non vedi sta tramontando il sole vuoi che rientri tuo marito e non ti trovi in casa oh e l'esclamò e così seduta si riavvivava alla crocchia e si appuntava al cappello con lo spillone per lui basta una scusa tutto quello che gli dico è buono piuttosto e non nego tu abbia ragione sei tu che ti preoccupi egli la interruppe gli riusciva odioso a sentirle pronunciare il nome di Arsilia devo trovarmi prima delle sette alla camera del lavoro disse anche questo doversi giustificare ora lo infastidiva Ida gli tese la mano perché l'aiutasse ad alzarsi e dandosi lo slancio egli si rivelò si riversò apposta sul petto gli si riversò apposta sul petto e la abbracciò alla vita ti sei di già pentito ti chiese aveva delle perline sotto le ciglia ma forse era sudore lo baciò sul mento e lui non seppe e non volle sottrarsi a questa effusione ella non era né sciocca né vanesia a conoscerla più da vicino oppure erano bastati pochi giorni e le sue intimità e i suoi trasporti l'avevano cambiata era abituata come una signora e lui l'aveva portata in quel luogo all'aperto tra le formiche e gli sterpi come una contadina per un attimo la desiderò di nuovo ma libera fresca odorosa interamente nuda come nelle sue stanze due giorni prima no davvero essa non era lesosa che gli aveva creduto ora lo guardava negli occhi e sembrò intuire il suo pensiero abbassò la testa e il suo volto scomparve sotto la gran paglia che la adornava non è più bello al coperto sussurrò come l'altro giorno anche se non in casa mia devi partire disse lui e ripeté domani devi partire per il mare la precedè e lei e lei gli fu vicino e lo prese a braccetto oltrepassarono il carabiniere e la ragazza il cielo era tutto rosso all'orizzonte scintillava gialla la palla del sole a filo dei tetti di rifredi ormai ho rimandato di una settimana almeno per un'altra settimana mi devi sopportare e la disse era infantilmente imbronciata sbatteva le ciglia e colpiva i sassi camminando con l'ombrellino si lasciarono all'altezza del romito egli la guardò allontanarsi dall'angolo di rimpetto la vetreria era una figurina esile elegante che risaliva al ponte e sembrava come riempirsi di colori e sfumature nel riflesso del sole tutt'attorno e caseggiate i quali egli aveva lavorato e dalle cui impalcate era precipitato il padre di Ersilia erano popolate in quell'ora giocavano i ragazzi sulla piazza e nei cortili c'erano i tavolini fuori la canova per un lungo momento non dei precisi ricordi ma un'improvvisa amarezza gli appresentì il cuore poi staccò la corsa come un ragazzo giù per la discesa della fortezza una fuga si sarebbe detto fino al corso dei tentori e la camera del lavoro lì giunto trovò delle novità che lo impegnarono tanto da permettergli di lasciarsi in ogni senso dietro le spalle la sua avventura durata tre giorni con la bellidina ma oltre allo sciopero che nel corso del pomeriggio aveva preso tutta un'altra piega era accaduto qualcosa che soltanto in seguito egli sarebbe venuto a conoscere con precisione questo qualcosa riguardava Ersilia grazie a tutti grazie a tutti